Abbiamo la responsabilità di fornire a queste persone un punto di approdo dove possano ritrovare la speranza di un futuro possibile. Queste le parole del direttore della Caritas di Rimini nei confronti dei profughi sbarcati dalla nave Diciotti che sono in cerca di ospitalità e che verranno accolti in diverse diocesi di tutto il nord Italia. Un avere proprio di sé a quella dei migranti della Diciotti sbarcati giovedì scorso a Catania dopo essere stati per cinque giorni ostaggio del braccio di ferro tra Italia e Unione Europea e che dopo lo sbarco sono stati trasferiti in gran parte nel centro di accoglienza di Rocca di Papa, sud di Roma, dove attendono ora di essere distribuiti nelle diverse strutture. Nella giornata di ieri dalla Romagna è partito il primo pulmino alla volta del Lazio per recuperare cinque rifugiati che sono stati affidati alle cure della Papa Giovanni XXIII di Forlì che ha già provveduto a trovargli una sistemazione. Si tratta di cinque uomini, tutti di nazionalità eritrea, tra i 50 e i 33 anni di età. Due di questi sono stati trasferiti a Longiano, uno a Savignano, uno a Ravenna e uno a Rimini. Rimini che attende altri due arrivi nei prossimi giorni che troveranno alloggio nelle strutture della Caritas. Una risposta umana all'appello lanciato da Papa Francesco, ha detto il Vescovo Lambiasi, che con tenace passione ha chiesto di aprire le porte ai nostri fratelli immigrati.